Meghan Markle e il principe Harry sono stati scoraggiati dall'avere una tata notturna dopo un incidente, ha detto un esperto reale. Il duca e la duchessa di Sussex aspettano il loro secondo figlio quest'estate. La coppia ha già un figlio di due anni, Archie, nato nel Regno Unito. Tuttavia, secondo quanto riferito, un'esperienza passata con una tata notturna dopo la nascita di Archie ha lasciato la coppia riluttante ad assumere altri servizi di assistenza all'infanzia. Parlando a Very Royal Baby, From Cradle to Crown di Channel 4, l'esperto reale Omid Scobie ha detto. Pochissime persone conoscono la vera storia che c'è dietro. Dopo l'arrivo di Archie, Harry e Meghan hanno chiesto aiuto per stabilire uno schema del sonno. Hanno assunto una tata notturna. Anche se non posso entrare nei dettagli dell'impiego di qualcun altro per motivi legali, è stato un incidente in una delle prime notti che ha scoraggiato la coppia dall'avere un'infermiera notturna. Il signor Scobie ha anche parlato della storia nella sua biografia dei Sussex intitolata La ricerca della libertà. Ha scritto. Meghan e Harry sono stati costretti a lasciare andare l'infermiera nel mezzo della sua seconda notte per essere poco professionali e irresponsabili. L'esperto ha spiegato come l'incidente li abbia resi nervosi. Ma hanno deciso di assumere un'altra tata per aiutarli. Il signor Scobie ha scritto. Nessuno dei due si è trovato a proprio agio a dormire tutta la notte senza andare a controllare Archie regolarmente. Ha aggiunto. Sono passati al numero 3. Che era una donna che ha lavorato per loro per un bel po' di tempo in realtà, fino a quando non si sono trasferiti in California. Li ha aiutati molto su base 9 a 5 ed è stato un ottimo rapporto di lavoro in realtà nonostante i rapporti. Secondo i rapporti, la pesantemente incinta Meghan potrebbe dare alla luce il suo secondo figlio da un giorno all'altro. La duchessa non ha rivelato esattamente quando il suo bambino è dovuto, ma ha detto a Oprah Winfrey nell'intervista che racconta che la loro figlia sarebbe arrivata quest'estate. La newsletter realista del Daily Beast ha detto che la data di scadenza di Meghan potrebbe essere maggio. Diceva. Al realista è sempre stato insegnato che l'estate iniziava a giugno. Ma ci sono state anche voci sul fatto che il bambino sarebbe nato prima. Quindi pensiamo che la risposta sia qualsiasi giorno adesso.